Mi sono messo su nel fotomontaggio oggi, però l'idea è bella, anzi potrebbe mettere in dialetto, no? Biretta con Baretta. Eh, c'era l'idea. Ok. Siamo a distanza, benvenuti a tutti, dovremmo essere partiti con la diretta. Siamo qui con il candidato sindaco Pierpaolo Baretta, che ringrazio di essere venuto qui. Io sono Paolo Gotticozzi, candidato in Consiglio Comunale col Partito Democratico, ideatore insieme a tanti amici di questa iniziativa. Allora, l'idea dell'iniziativa è molto semplice. Siamo in un bar, abbiamo ordinato delle birre che stanno arrivando, come l'iniziativa Birretta con Baretta, e facciamo qualche domanda al candidato. Al bar si parla di serio e facetto, per cui partiamo da una prima cosa un po' sui ricordi. Abbiamo raccolto le domande online, una è arrivata perché sappiamo che sei nato e hai vissuto inizialmente qui a Venezia, proprio a Cannaregio. Qual è il primo ricordo di Venezia che ti viene in mente, che hai di quando eri piccolo? La calle dove abitavo, che è qui vicino, calle Priuli, tutti la chiamano calle Racchetta, ma di qua del ponte si chiama calle Priuli. E quindi i primi ricordi sono legati ovviamente alla casa e al passeggio in quella zona lì, che è la strada nuova. Sono i primi veri ricordi di infanzia, che sono ovviamente legati al posto. Poi Venezia si presta perché sei subito in strada, senza le auto. Quindi sì, il ricordo è quello. Allora, adesso altre due domande flash, un po' più leggere e poi andiamo con qualche domanda un po' più corposa. Allora, la prima è Beatles o Rolling Stones? Bob Dylan. Ottima risposta, direi. Bene, la seconda, un gelato con due palline, quali gusti? Pistacchio e cioccolata. Creme comunque. Molto bene. Io ho notato per esperienza personale che gli uomini di solito tendono a prendere le creme, le donne e la frutta. Non so se sia vero. Donne e uomini? Fermo. Qualcuno sì, qualcuno no. Vabbè, esperienza personale un po' così. Allora, domanda un po' più seria. Siamo a Venezia, però il nostro comune è molto articolato. Ci sono varie parti con problematiche diverse. Un sindaco però è il comune di tutto il territorio. Come si può gestire tutta questa complessità? Con quali mezzi, quali aiuti e con quale struttura organizzativa? Ma innanzitutto, riconoscendola, la complessità. Cioè non va semplificata, sono molto diverse. Venezia, Mestre, Marghera, ma anche già Lido cambia tutto. Quindi bisogna innanzitutto riconoscere le diversità e le specificità. E poi bisogna decentrare molto il lavoro del comune. Cioè io ho detto subito che sono contro l'idea di un uomo solo al comando. Non so se avete presente a cosa mi riferisco. Bisogna immaginare subito un decentramento organizzativo. Le municipalità sono una cosa seria, vanno fatte funzionare bene, gli vanno dati spazi, poteri e anche un po' di risorse perché devono essere un movimento. E poi far leva sull'associazionismo. Ce n'è tantissimo associazionismo culturale, associazionismo che si occupa del disagio. E io ho constatato in queste settimane che le associazioni dicono che non hanno spazi, che gli sono stati ridotti. Convenzioni sono di anno in anno, che mi fa una cosa ridicola. Perché se uno si occupa di arte, di danza, di disagio e magari ci mette anche un po' di soldi propri per migliorare l'ambiente o lo spazio che ha, almeno che ci abbia una concessione pluriannale, che ci abbia davanti 5, 6, 7, 8 anni e possa quindi organizzarsi e investire questo. E quindi la prima risposta è una riconoscere diversità e garantire un decentramento forte dal punto di vista amministrativo. Cosa necessaria. Iniziaando dalla giunta, cioè una giunta che funzioni, io dico in giro che la prima cosa che farò è l'assessore alla cultura. Guardate che è impressionante che una città come Venezia non ha un assessore alla cultura. Quindi immaginare subito un'organizzazione della macchina comunale che sia fortemente decentrata. Le municipalità, per esempio, sono il primo passo. Bene, direi che è una cosa realmente... Quindi, cioè, gli impiegati, io ero impiegato, gli impiegati avevano le mense e gli operai no. E un certo giorno davanti alla mensa degli impiegati c'era il blocco, il picchetto degli operai. Io ho fatto un passo in avanti dicendo ma non è così che si convince la gente e giustamente me l'ho detto vieni oggi pomeriggio che ne parliamo. E da lì è iniziato un confronto e ho percepito l'idea che il sindacato poteva essere, pur nei problemi, nelle fatiche e anche negli errori, una risposta al grande problema dell'emancipazione e dell'uguaglianza. E quindi ho cominciato facendo il delegato di fabbrica e poi ho cominciato il percorso a tempo pieno che ho continuato per tantissimi anni, prima a Venezia, poi a Pordenone, poi a Roma, per molti anni a Roma, fino al 2008 quando poi mi sono passato alla politica. Quindi l'approccio è stato così, con una voglia di cercare dei luoghi dove si poteva esprimere un impegno sociale. Bene, nominavi la scuola, per cui una domanda sulla scuola è d'obbligo, tra l'altro io insegno e quando entri in classe vedi subito chi si è messo in primo o in ultimo banco. Dove ti mettevi il primo giorno di scuola? Davanti o in fondo? A metà. Allora, non si può dire che per Paolo Barretta non sia un uomo che sa mediare e trovare il compromesso, direi che ci siamo. Invece, qui su Venezia, grande problema complesso del turismo, dei flussi turistici. Abbiamo visto in questo periodo, se non ci sono turisti, Venezia annaspa, però prima, pre-Covid, Venezia un po' soffocava per i turisti. Quali strategie, quali linee, quali sono le tue idee su questo tema? Sì, stiamo vivendo un paradosso, perché Venezia senza turisti muore e con troppo turismo soffoca. Bisogna trovare la misura, perché dobbiamo rilanciare il turismo, ma dobbiamo evitare che qualcuno pensi che si possa tornare come prima. Questo problema era già chiaro prima del lockdown. Il lockdown ce l'ha reso clamorosamente evidente e quindi ignorarlo adesso è davvero colpevole. Allora, se noi vogliamo non riaffidarci alla monocultura turistica, bisogna innanzitutto avere un'idea di turismo di qualità. Turismo di qualità vuol dire, come ho detto prima, la cultura. E attenzione, per cultura intendo anche tutta la produzione culturale che c'è in città. Ci sono un sacco di associazioni, di club che fanno arte, che fanno pittura, che fanno cultura. Dobbiamo fare in modo che possano, diciamo, essere parti integrante. E anche, perché no, allungare la stagione. Per quale motivo a novembre la Biennale deve chiudere? Cioè, Venezia d'inverno non è solo acqua alta e nebbia. Può anche essere una grande occasione di offerta per un turismo che tanto più è di qualità. Però bisogna anche pensare al fatto che i turisti, un po' per fortuna, torneranno anche. Allora, cauteliamoci adesso che siamo in questa situazione e prevediamo una rigorosa prenotazione degli arrivi e degli ingressi in città. Ma la tecnologia oggi ci consente di farlo bene. Una prenotazione molto secca in maniatare che se quel giorno non c'è posto, poi dovremmo decidere qual è il numero. Ma questo è un tema che affronteremo, ognuno, io ho delle idee, ma non è un tema da campagna elettorale, è un tema da governo e quindi lo vedremo dopo. Ma lanciare sicuramente il sistema di prenotazione obbligatoria. Se tocca a me, il prossimo anno, d'intesa con le categorie che si occupano di turismo, dagli albergatori alle guide turistiche, da tutti coloro che se ne occupano, scegliamo 15-20 giornate critiche che consideriamo critiche e sperimentiamo. Se come io sono convinto funzionerà dal 2022 obbligatorio. Quindi 2022 è prenotazione obbligatoria dei flussi, se quel giorno non c'è posto, prenota per un altro giorno. Questo consente di non chiudere la città, perché l'idea di chiudere una città è fuori da qualsiasi logica di coinvolgimento, di democrazia. Ma consente di proteggerla anche da una gestione faticosa e anche di viverla meglio. Viverla meglio i veneziani e viverla meglio i turisti stessi che arrivano e diventano ospiti di una città, di una città viva. Questa è l'idea sul turismo. Però aggiungo subito che se vogliamo uscire dalla monocultura turistica dobbiamo anche fare dell'altro. Allora, per esempio, io penso che una forte spinta a un artigianato legato alle tradizioni veneziane sia importantissimo. Allora, normalmente viene in mente la nautica e va bene, ma pensate ai tessuti. Venezia ha una tradizione di tessuti straordinaria. Pensate all'editoria, a una piccola editoria da tutelare e da sviluppare. Pensate, di solito mi dicono, ma strano come candidato sindaco di Venezia lo dici, pensate all'agricoltura. Che, ad esempio, non solo nelle nostre isole, ma nel nostro comune è straordinariamente importante e diffusa. L'altra sera sono stato al Tarù, ci sono aziende importantissime, di giovani, tra l'altro, tutte di giovani, con produzioni bio, con produzioni, diciamo, di qualità. Allora, tu puoi immaginare una diversificazione. Ovviamente in questo quadro sarebbe sbagliato dimenticare che noi abbiamo comunque un grande polo, che è Marghera, che oggi è buttato giù e dobbiamo tirarlo su. Allora, possiamo fare di Marghera un grande incubatore di industria innovativa? Questa è la domanda e la risposta deve essere sì. Faccio degli esempi. Il digitale, oppure lo stesso idrogeno, che sta diventando un propulsore alternativo. Questo, diciamo, bisogna, quindi, quando si dice la parola turismo, bisogna avere in mente il quadro complessivo, sia di risposta al tema stesso, ma sia anche di una strategia più ampia di un'idea di città. Bene. Allora, ambasciatore non porta pena. Questa è una domanda che è arrivata, però mi sembra anche simpatica e doverosa da fare. Siamo al giorno dopo le elezioni. Brugnaro le telefona facendole i complimenti per la vittoria. E lei cosa risponde? Cosa dice a Brugnaro? Beh, che finalmente può occuparsi dei pili, no? Il fatto di produzione culturale è molto ricca. A Venezia abbiamo l'università, abbiamo l'Accademia di Belle Arti, abbiamo Accademie Teatrali. Da questo punto di vista abbiamo tanti giovani e non solo che si dedicano alla cultura. Spesso fanno fatica magari a trovare dei luoghi, delle occasioni per esibirsi. Un'occasione che storicamente è stata sempre molto importante è stato il Carnevale di Venezia. Nel Carnevale di Venezia ci siamo resi conto negli ultimi anni che pian piano è diventato sempre più una cosa d'uso e consumo dei turisti, sempre più un Carnevale dei palazzi e sempre meno un po' un Carnevale dei campi. È una cosa che io ho sofferto molto a livello personale perché organizzavo Carnevalanga, festa di Carnevale giovanile qui a Venezia. Abbiamo portato tanti gruppi, lo Stato Sociale, Modena City Ramblers, Mellow Mood. Per cui però questa cosa è pian piano scomparsa. Qual è l'idea e la funzione, secondo te, del Carnevale per la città? Tanto l'idea della prenotazione obbligatoria nel Carnevale sarà una delle fatiche maggiori che ci toccherà affrontare, però va fatto. Lo cito apposta perché è chiaro che vuol dire ridare a un evento importante come il Carnevale che vorrei dire a chi è più giovane è che non c'è sempre stato nel senso attuale. C'era un periodo in cui non c'era questo tipo di Carnevale. Torniamo al ragionamento di prima. La risposta sta nell'offerta culturale complessiva. Se noi siamo in grado di alzare l'offerta culturale e farla diventare in una città viva, allora riporti anche un'esperienza che è molto importante all'interno di un'idea di una città che intanto vive per se stessa e l'ospite deve inserirsi in una città che è vissuta da chi la vive, da chi è residente. Allora, ben accolto l'ospite, non assolutamente ben accolto, ma lui stesso deve percepire che si inserisce in una realtà che ha una sua vita propria, una sua dinamica. E allora questa è la risposta. Diciamo, il Carnevale è un momento topico, però è lo schema di fondo che deve funzionare, cioè far sì che Venezia sia una città vissuta e quindi c'è il tema di come proviamo ad aumentare la residenzialità, poi presumo che ci sarà una domanda, se no rispondo subito. E quindi fare in modo che ci sia questa modalità di condividere. Allora anche il Carnevale, ma pensiamo ai vari eventi durante l'anno, perché il Carnevale è un momento con una certa specificità, ma ci sono altri momenti dell'anno, il Redentore, o pensare anche ad altri momenti, la salute che è un momento molto meno turistico di altri, però può essere un momento di ulteriore condivisione di una vita attiva dentro la città. Per questo diciamo che la cosa importante è far vivere, far pulsare quello che nel territorio c'è già. Giustamente, alla birretta anche il candidato beve. Prima di entrare sul tema delle residenzialità, un'altra domanda un po' più leggera. L'ultimo libro che ha finito, che ha letto? Sto finendo quello di Alverà sull'idrogeno, che è un veneziano che lavora in una grande impresa multinazionale, e sto finendo questo libro sull'idrogeno. Quello che ho finito, non mi ricordo neanche più il titolo, è un giallo di 600 pagine, di questo... Di Carlo? Di 600 pagine? Sì, l'enigma della Camera 622, giusto, per buttarsi dentro e pensare ad altro e avere uno sfogo. Invece ho letto recentemente un bel libro su Venezia 2021, che merita di essere visto, che racconta proprio esattamente molte delle cose che stiamo dicendo noi, proiettate sul futuro. Comunque questo libro di Alverà lo consiglio. Non è leggerissimo. Abbiamo capito che non si legge Topolino, o almeno non si legge più Topolino, ma... Forse qualche volta... Allora, andiamo allora alla domanda sulla residenzialità. C'è scritto una giovane coppia che dice che vorrebbe poter pensare di mettere su famiglia, rimanendo a vivere qui a Venezia, però già in due gli spazi sono stretti, i costi sono alti, pensare di avere dei bambini diventa faticoso. Come si può pensare di aiutare, agevolare tutti quelli che si trovano in questa condizione e vogliono, desiderano fortemente di rimanere a vivere qui in centro storico a Venezia? Il Comune deve diventare un soggetto attivo nel mercato delle abitazioni, per condizionarlo. Come può fare? Beh, è sorprendente, ma il Comune di Venezia possiede migliaia di case, migliaia... Venezia è il Comune, è complessivamente inteso. Ben oltre le 4.000, molte delle quali sono chiuse, abbandonate e in uno stato di degrado. Sono distribuite in tutti i quartieri del Comune. Facciamo un piano, utilizzando la legge recente, 110% il bonus energetico di portare addirittura fino al 2023. Facciamo un piano, risistemiamo molte di queste case, immettiamole in un mercato calmierato, ad affitti calmierati o anche a riscatto, e decidiamo di mettere dei bandi che consentono a giovani coppie, ai pendolari, perché faccio degli esempi. Una battaglia, qualche mese fa, che io ho appoggiato, sia pure a distanza, per difendere il fatto che a Venezia resti l'ospedale civile. Ma guardate che, se noi non pensiamo che agli infermieri e ai medici che vengono da fuori tutte le mattine con i turni che fanno in ospedale, non gli offriamo anche residenzialità, prima o dopo questa battaglia rischiamo di perderla, perché la gente se ne va. Allora, oppure quelli che lavorano al tribunale, oppure anche persone che lavorano negli alberghi, quindi immaginare delle abitazioni pubbliche del comune che vengono offerte a giovani coppie, a pendolari, che si sviluppi anche una residenzialità molto interessante legata ad esempio alla cultura, che è quella di chi viene e sta sei mesi, un anno, perché ha un'attività da fare. Allora, se il comune fa questo e entra quindi, direi, prepotentemente, come soggetto nel mercato delle abitazioni, allora fa due operazioni. Una, dà delle risposte e due, diventa un soggetto in grado davvero a quel punto di negoziare anche con i privati, favorendo attraverso incentivi, ovviamente, che venga spostata verso la residenzialità. È chiaro però che, perché questa operazione funzioni davvero, non a caso, ho fatto l'esempio dei pendolari, residenzialità e lavoro vanno assieme, perché la gente tende ad andare ad abitare più o meno dove lavora, più vicino al posto del lavoro. Quindi, noi dobbiamo fare questa operazione sulla residenzialità e diventa molto interessante, molto importante, e credo anche con risultati veri, e contemporaneamente favorire quell'artigianato di cui parlavo prima e altre cose. L'altra sera sono andato ad Altobello, Maccalè, sono cinque minuti esatti a piedi, camminando piano da Piazza Ferretto, quindi è centro, ci sono 50 appartamenti chiusi del comune, in un palazzo molto degradato e quindi bisogna fare un intervento di fondo. Ma a cinque minuti dal centro di una città ci sono 50 appartamenti chiusi del comune. Non è possibile. Allora, diamoci un piano e rispondiamo in maniera concreta al dibattito sulla residenzialità, non promettendo, come è stato fatto cinque anni fa, 30.000 abitanti in più e poi il risultato è che sono scesi di altre 3.000 qui a Venezia. Facciamo delle cose misurabili, concrete e che siano governabili. Qualche migliaio di appartamenti nei prossimi tre o quattro anni cambia la musica. Assolutamente. Una domanda un po' più quasi personale di storia familiare. Lei all'elementare, tu all'elementare, cosa sognavi di fare da grande? Sognavi già di fare il sindaco di Venezia? Allora, non so, è interessante dal punto di vista psicologico, non l'ho mai indagato più di tanto. Pensavo di fare o il direttore d'orchestra, o il chirurgo, o il giornalista. Allora i giornalisti scrivevano con le mani. Quindi, tutti e tre lavori su cui bisognava usare le mani. Poi nella vita ho fatto tutti i lavori in cui non era niente di manuale. Comunque queste tre cose, alle elementari che ho fatto qui vicino, alla diedo, che è qui dietro. Allora, altra domanda importante su cui molti veneziani, soprattutto, attendono una risposta chiara, netta, che è arrivata, ma se non fosse arrivata l'avrei fatta anche io direttamente. Grandi navi? Sì? No? Dove? Come? Cosa diciamo delle grandi navi? Parliamo di croceristica, che è una cosa più complessa di grandi navi. La croceristica è fatta di grandi, di grandissime, di medie e di piccole. Perdere la croceristica sarebbe un errore, perché è una risorsa importante per la città di Venezia. Primo punto. Secondo, le grandi navi vanno tolte dal bacino di San Marco. Questa è una decisione ormai mi pare condivisa, però bisognerebbe provare ad applicarla. Per applicarla ci sono due aspetti. C'è una soluzione immediata e transitoria, se le vogliamo togliere subito. E poi c'è una soluzione definitiva. La soluzione immediata e transitoria, io ho detto l'altro ieri, per esempio San Leonardo, che è appena dentro il porto, oppure un paio di banchine a Marghera, sono le soluzioni immediate, se no la si perde. Se la si perde, non la si recupera più. Dopodiché bisogna immediatamente pensare a soluzioni definitive, che devono fare i conti con il delicato equilibrio della laguna. Allora, ci sono più soluzioni, ci sono soluzioni fuori porto. C'è chi sta pensando a un porto d'altura, un offshore, il quale peraltro è interessante per un altro motivo, perché mentre il porto commerciale che c'è a Marghera, sul piano delle rinfuse, va bene, basta fare manutenzione dei canali, no a scavi di nuovi canali, assolutamente, la normale manutenzione ordinaria, mentre invece sui container, piano piano che passa il tempo, il problema c'è, perché le grandi navi porta container non entreranno mai in laguna, pescano 18 metri, quindi cosa stiamo parlando. Quindi, allora, o perdi quel traffico, oppure ti poni il problema, a questo punto, forse mettendoci d'accordo con Trieste e Ravenna, smettendola di litigare e pensando in grande, perché la competizione la fai così, di pensare a un porto d'altura. Quindi le soluzioni definitive sono più di una e vanno studiate rapidamente. Adesso la prima cosa a decidere, se vogliamo però che la croceristica resti a Venezia, probabilmente, lo dico, probabilmente, a quel punto tu puoi anche selezionare sulla dimensione, perché anche sulle navi crociere, quelle sopra i 300 metri, non entreranno mai neanche quelle in laguna. Quindi, dobbiamo affrontare il tema, anche forse selezionando, no, la tipologia di possibilità di utilizzo del naviglio. Ok, quindi mi pare che sia chiaro che la prospettiva prima possibile sia riuscire di far uscire completamente le grandi navi dalla laguna. Ultima domanda, non l'abbiamo ordinata direttamente? Di solito, birra bionda o rossa e poi ti lascio andare. Ambrata. Filtrata o non filtrata? Filtrata. Ok, allora, io ringrazio nuovamente Pierpaolo. grazie a tutti. Grazie. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.